Sanremo, Saldaris, ministro degli esteri greco, ha firmato col Conte Sforza il Trattato di Commercio, Amicizia e Navigazione. Saldaris ha sollecitato dal suo governo un provvedimento in favore dei nostri prigionieri. Sforza rileva che l'accordo è il primo del genere da noi concluso con un paese mediterraneo. Roma. Il ministro degli esteri austriaco Gruber si reca al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Lo riceve la Casa Civile e Militare. Poi al Viminale visita l'Onorevole De Gasperi. I due uomini si conoscono da tempo. La loro amicizia fu auspice del colloquio che a Parigi nel settembre 1945 segnò la ripresa delle relazioni italo-austriache sulla base di una concreta comprensione e cordialità. Palazzo Chigi. Col Conte Sforza il ministro Gruber firma due convenzioni. Inerenti l'una al transito ferroviario, l'altra al transito stradale fra Tirolo del Nord e Tirolo orientale attraverso il territorio italiano dalla Val Pusteria. Alle amichevoli parole di Sforza risponderà Gruber, sottolineando la somiglianza dei problemi che si pongono nel momento attuale all'Austria e all'Italia paesi confinanti. Intese diplomatiche a suggerare intese di popoli, desiderosi di concordia e di attivi pacifici scambi. Grazie. Grazie.